Dopo il commosso funerale di Erika Petri, a cui ha partecipato unita la cittadinanza di Pralungo, il piccolo centro del biellese che ha voluto rendere l'ultimo saluto alla giovane donna orribilmente uccisa mentre si trovava in vacanza in Sardegna, proseguono le indagini per capire cosa sia successo in quei drammatici momenti dell'11 giugno che hanno portato alla morte di Erika e che vedono come unico indagato il suo fidanzato Dimitri Fricano, la cui posizione nelle ultime ore si sta aggravando sempre di più. Nella villetta di San Teodoro, in Sardegna, infatti, i carabinieri dei RIS di Parma non hanno trovato le impronte di nessun estraneo e quindi di nessun potenziale aggressore. Sulla porta d'ingresso non c'erano segni di effrazione, il che stride molto con la versione della rapina fornita dal fidanzato sin dai primi interrogatori. Mi hanno colpito la testa, sono svenuto, non l'ho uccisa io. Il ragazzo non ha mai cambiato la sua versione. Al momento però, l'unico indagato per l'omicidio di Erika Preti resta proprio lui. Sabato scorso Dimitri Fricano non ha partecipato ai funerali di Erika perché ancora ha ricoverato in ospedale ad Olbia. Negli ultimi giorni è stato spostato nel reparto psichiatrico. Aveva dei tagli alle braccia e un ematoma in testa che ha raccontato di essersi procurato lottando con il suo aggressore, un uomo scuro con la testa rasata che si sarebbe introdotto in casa e che dopo averlo tramortito avrebbe ucciso con un coltello da cucina Erika. L'arma del delitto è stata trovata dai carabinieri all'interno della casa e sequestrata. La coppia stava insieme da dieci anni. Erano lì in vacanza ospiti in una casa di amici. Un medico legale, incaricato dalla procura, analizzerà ora le ferite sul corpo di Dimitri per capire se sono compatibili o meno con un'aggressione. Per la soluzione del giallo inoltre sarà fondamentale l'analisi delle tracce trovate sotto le unghie di Erika. Sembra infatti che la giovane abbia reagito al suo aggressore prima di soccombere. La prova del DNA potrebbe tradire il suo assassino.